Non sono molti come su altre tratte, ma il problema dei migranti che cercano di entrare in Lituania dalla Bielorussia è ancora una realtà. Recentemente la Corte Costituzionale Lituana ha stabilito che la detenzione di richiedenti asilo stranieri per più di sei mesi senza un ordine del Tribunale è incostituzionale. In questo centro per stranieri ci sono attualmente 132 persone, sia quelle per le quali è stato emesso un ordine di detenzione da parte del Tribunale, sia quelle che, come B.Bart, possono godere di maggior libertà in attesa di una decisione sull'asilo. B.Bart vuole rimanere in Lituania e spera di poter portare con sé la moglie, ma molti richiedenti asilo cercano di andare più a Occidente. Solo quest'anno oltre 1500 persone sono state segnalate in paesi dell'Unione Europea, diversi da quelli in cui hanno chiesto asilo. B.Bart vuole rimanere in Lituania e in Lituania. B.Bart vuole rimanere in Lituania e in Lituania. B.Bart vuole rimanere in Lituania. B.Bart vuole rimanere in Lituania.